PEGI 7 Aiuto, è il Dragon Lord! Cosa succede, Peach Gatto? Il cielo è così buio e spaventoso! Quel cattivone ha lanciato un incantesimo per sottrarre il potere di creare alla gente! Vuoi dire che non possono più costruire? Come faranno a riparare le loro case? E adesso i villaggi sono sotto attacco! Ma, un attimo, è appresso un eroe! Non è un eroe qualunque, è il costruttore! È proprio quello di cui Aleph Gard aveva bisogno! Un impavido avventuriero in grado di ricostruire il regno intero! Aleph Gard è un posto immenso, pieno di mostri pericolosi! Ma i grandi mostri significano grandi opportunità! Vuol dire che possiamo raccogliere tante cose utili! Puoi usare i materiali che ottieni per costruire tante cose diverse, se puoi immaginarlo! Puoi anche costruirlo! Gli abitanti sembrano molto più contenti adesso! Il loro villaggio è di nuovo un posto accogliente! Ottimo lavoro, Peach Gatto! Sapevo che ce l'avremmo fatta! Ahah, ci sono! Cosa combini, Mario Gatto? Sei un investigatore? Esatto, Peach Gatto! Sto giocando a Detective Pikachu per Nintendo 3DS! Oh, adoro Pikachu! È così grazioso! Anche se adesso sembra un po' burbero! Cosa? Pikachu parla? E la sua voce ha un che di diverso! In questo gioco di avventura vesti i panni di Tim, ma il Detective Pikachu ti aiuterà a risolvere tutti i casi! Oh no! Quell'iPhone ha rubato la collana della ragazza! Fai qualcosa, Mario Gatto! Oh! Ci penso io! Mmm... Prima di tutto devo chiedere se qualcuno ha visto cosa è successo! Mmm... Quindi un iPom è andato da questa parte e l'altro da quella! Pikachu può raccogliere informazioni parlando con gli altri Pokémon! Sembra che sia stato l'iPhone con il ketchup su da coda a rubare la collana! Cerchiamo qualche prova! Esamina tutte le aree sospette! Questa impronta è rossa! È ketchup! Mi sa che ci avviciniamo alla soluzione! Adesso dobbiamo collegare tutti gli indizi per risolvere il mistero! L'iPhone con il ketchup ha preso la collana, giusto? E l'impronta con il ketchup era qui! Quindi ci sono! L'iPhone è andato da questa parte! Ben fatto, Peach Gatto! Ci sono tanti misteri da svelare a Rime City! Ma non sarai mai da solo! Il Detective Pikachu ti aiuterà! Cosa ne dici, Detective Pikachu? È il momento di un nuovo segmento tutto dedicato a Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna! Allenatori, preparatevi! Stiamo per darvi degli utilissimi consigli su come catturare i Pokémon leggendari! Trovare i Pokémon leggendari può essere difficile! Ma con l'aiuto di Solgaleo e Lunala puoi andare a cercarli negli Ultravarchi! Gli Ultravarchi sono dei portali che collegano la regione di Alola all'ultraspazio! Attraversandoli puoi raggiungere luoghi lontanissimi! Oh, guarda che bei colori! Ogni varco di un certo colore è collegato a tipi di mondi diversi e alcuni di essi ospitano Ultra Creature e Pokémon leggendari! Mi piacerebbe trovare il Pokémon leggendario Zapdos! Proviamo ad attraversare questo varco rosso! Wow, siamo arrivati così lontano! Dai un'occhiata a quelle scogliere! Scommetto che a Zapdos piacerebbero! Ehi! Ecco uno Zapdos! Che fortuna! Proviamo a catturarlo! Prima dovremo lottare! Ok, lo abbiamo indebolito! Mandarlo a Nanna potrebbe essere utile? Certo! Lo renderà più facile da catturare! Presto, lancia una Poké Ball! Cosa? Si è liberato! I Pokémon leggendari sono così forti che è difficile catturarli con una normale Poké Ball! Proviamo con qualcosa di più potente! Vai, Ultra Ball! Sì, ce l'abbiamo fatta! È importante avere gli strumenti giusti sempre con sé! Quindi prima si lotta con il Pokémon per indebolirlo, Poi puoi provare ad acchiapparlo con una Poké Ball, Ultra Ball o persino con una Master Ball se ce l'hai! Puoi anche farlo addormentare per renderti la vita un po' più facile! Esatto, Peach Gatto! Ma ricorda, se vuoi catturare un Pokémon selvatico, assicurati di non sconfiggerlo! Non vedo l'ora di avere Zapdos nella mia squadra! Tra Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna puoi trovare e catturare tutti i Pokémon leggendari! Oh, sembra che siamo arrivati alla fine, Mario Gatto! Speriamo che l'episodio di oggi vi sia piaciuto! E alla prossima! Ma intanto... Ciao!